Oggi tessuti a quattro ore e novanta, seguirti, ma tessuti speciali però. Buongiorno Francesco! Dove mi inquadri? Di qua o di là? Buongiorno, una volta c'era, quando ero piccolo, sul telegiornale c'era un certo Ruggero Orlando, buongiorno a tutti da New York, Ruggero Orlando, buongiorno a tutti, da Francesco, l'ho zoppato. Va bene, santa giornata a tutti che c'erano di cantare. Si è fatto male cercando i tessuti da proporre? No, perché scappando da mia moglie, perché aveva la scopa e per scrivere la scopa... Buongiorno, dai. Allora, oggi proponiamo i tessuti a quattro euro e novanta. Questa mattina sono andato su un magazzino che abbiamo, ci siamo nello scampo dei fratelli Antonioli, abbiamo due punti di venita, uno a Ruvigo, in Viale Porta Adige 44, e l'effetto del coso... Sì, lo sono. Oggi sconti speciali, che non dica neanche dove sono. No, in Viale Porta Adige 44, dove stiamo trasformandendo qui, in questo momento, a Est, in Via Teste 3-C. Abbiamo anche, mia moglie. Dani, guarda. Guardate, aspetta, dimmi, dimmi. Guardate che meraviglia, guardate il mio angolo. Finalmente, ecco, il motivo che sono a zoppato è che facendo i lavori, purtroppo tutto il reparto... Non è abituato a lavorare, succedono queste cose. Mi sei andato in cerca te, fratello qua. Non c'è tanto tanto. Ma non tanto tranquilla, voglio. No, io, anche. Perché si sente a morto a mortuna. Mi fierisce sempre. Allora, sono andato in questo magazzino, e non avevo le chiavi. E allora cosa ho fatto? Sono ritornato qua, tutto in street, ma avevo già in mente, abbiamo già parlato di tutti tessuti particolari. E invece ho detto, ma sì, via, in magazzino. Sono andato qui, sono tornato in negozio, ho levato un po' di tessuti da negozio, e anche però, se anche costavano un minimo dai 12 euro fino ai 35 euro, oggi sempre 4,90 euro al metro. Naturalmente è più le spese di spedizione. sapete che spediamo anche in tutta Italia, a regione comprese, anche all'estero. Quindi, grazie a voi. Come ci può scrivere la gente? su questo numero WhatsApp. Ecco, oggi è sabato, sabato mattina, siamo registrando la puntata che mi era trasmessa oggi pomeriggio, dopo i vari di YouTube e di Facebook. e quindi nel primo pomeriggio, no? Quindi noi, però il telefono vi risponderemo dal lunedì pomeriggio in poi, va bene? La nostra Sabrina, in ordine di arrivo delle richieste, delle vostre richieste, vi contatterà e vi dirà tutto quanto per essere al vostro servizio. Va bene? Benissimo. Allora, cominciamo. Allora, ho detto tessuti speciali, particolari. Cominciamo con la propos... Ah, intanto, ecco, questi sono a metro oggi. Quindi tutto a metro, prendete da... insomma... Da un metro fino a 30 metri qui oggi. Ho tessuti anche con pochi metri, 4-5 metri, proprio però che, appunto, proprio per offrire cose speciali, bellissime. Tutte cose, tutte chicche oggi vi presento, cose particolarissime, va bene? Cominciamo. Questo, cotone americano. Cotone americano. È una lavorazione a corkett. Ho una lavorazione a corkett e guardate questa fantasia. Allora, scusami, dico il numero... È il numero, è l'articolo numero 1300. La proposta nostra è 1300. Oggi è la puntata, penso, 40... 35! Ah, 35! No, scusami, 43 siamo andati avanti, eh! Vieni, camera, regista! I bimbi, papà, perché i bimbi li faranno dormire poco, con tanta gioia, quel punto che dormo, ma mi sanno dormire poco. Tu devi dormire come me, separato da mia moglie. No! Perché abbiamo tutti e due... Russo io, Russo lei... Il Russo però non l'abbiamo ancora imparato. No, che scherzo, dai! Allora, questo crocchetto, guardate questa lavorazione particolare, no? Di questo... È alto... 100... Dammi a metà perché c'è... Eh... 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 Il punto... Eh... I colori, insomma, è veramente... Eh... Bellissimo! Sia per bambini che anche per adulti, va bene? Anche pantaloncini da uomo qua! Eh... 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 La proposta è 1301, ve lo apro... Scusate... Eh... Eh... Guardate però che... Che colori, che fantasia! Eh? Fa voglia d'estate, eh? In questi giorni abbiamo avuto tanto tempo, tanto... Tanto tempo brutto, tanto vento, no? Eh... Tutti quanti avevamo voglia d'estate... No, sono rimasto impressionato da una cosa invece... Che sul Trentino, eh... Dove ci sono i... I famosi vigneti, no? Eh... Hanno messo sui vigneti delle candele anti-ghiaccio... Sì... Cioè, tu... Cioè, distese di... 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 Di candele... Purtroppo era un spettacolo bellissimo da vedere, ma... 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 Vedete? Non è... È morbidissimo... Purissimo cotone... Guardate che fantasia... Che tinte veramente... Forti che ha questo... Questo... La proposta è 1301... Scusami... Mi quadra ancora... Per chi ci... È bellissimo questo qua... Se... Con l'audio spento... Tessuti da 15... O... Dei 12 15 anni a mai... Grazie... Ho la proposta... Adesso... 1302... Mille... Mille... 1302... Guardate questo... Cadì... È la mia stampella... Mi appoggio qua... Ok... Guardate che... Un cadì... Accettato viscosa... Made in Italy... Guardate che disegno particolare... Arrivato... Arrivato sul disegno... Grazie... Arrivato... Concrete... Vabbè... Vabbè... Bellissimo... Bello eh... Quattro euro e novanta... Quattro euro e novanta... Tessuti da 30 a 35 euro... Al metro... No no no... Scusami... Intanto... Francesco... Ricordiamo a casa... Perché facciamo queste promozioni... No... Sì... No... Sono... Ultrasottocosto... Certo... Non... Io... Tipo questo... Tipo questo... Ma quasi tutti... Il 95%... Sono... Sottocosto... Lo facciamo per chi? Ma no... Per... Non per incentivare... Per pubblicità si chiama... No... Spendere i soldi in suo modo... Spendere i soldi in un altro... E in più... Abbiamo una missione... Non è giusto? Sì... E poi... Abbiamo una missione... Di incentivare le scuole di taglio... E cucito... E le sartorie... Quindi... La nostra... Sapete da quando siamo iniziati... A volte facciamo proposte a 3 euro... Eh... Fino al massimo 8 euro... Facciamo... Proprio essere... Pezzi continui... Dipende da... 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 Proprio per incentivare... E ci sta dando... Eh... No a noi... Sta dando frutti queste cose... Perché ci sono ovviamente tanti ragazzi... E ragazzi... Che stanno cominciando a innamorarsi dei tessuti... E andare... Proprio alle scuole d'Italia... Quindi... Sì... Sì... Anche perché... Oppure se dite addirittura... Eh... Che vengono qui... Le... Le vostre insegnanti... Le vostre maestre... Su pezzi... Su rotuli interi... Vi posso fare prezzi... Ok... O anche... O qualcosa anche da regalarvi... Va bene... Però è importante che siate... Una scuola di taglio e cucito... Va bene... Ok... Altro tessuto particolare... E questo... Io vorrei... Io non so come... È la proposta numero... 1303... Io non so come... Allora... Questo è... Sì... Sì... Però guardate... Asacana... Vedete... Non... Non so se... Si vede dalla... Si vede... Si vede... Eh... Questo disegno... Particolare... Molto delicato... Freschissimo... Sì... È un cotone viscosa... Freschissimo... Veramente... Camicette... Vestitini... Questa è veramente... Una stra occasione... Cioè... Solo di... Solo di lavorazione... Questi soldi qua... Eh... Elegantissimo... È praticissimo... È praticissimo... E poi sono... Chi... Chi lo mette in... Ecco... Adesso... È periodo di... Cominciare a pronotare... Le vacanze... Questi sono qui vestiti... Guarda... Vedi... Che... Non si... Non si... Non si estropicciano... Ecco... Il butto... Il butto in valigia... Va bene... Poi... 1304... Cosa ha questo... Questo tessuto... Questo è un tessuto... Sì... L'ho tagliato... Ecco... Ho avuto... Delle richieste... Dei... Principe di Galles... O tessuti... Strutturati... Così... Ecco... Questo... È un bianco e blu... Sì... È un bianco e blu... Un blu navi... E... Anche... Un piedi pull... Eh... Non è stampato... Non ha... Non è stampato... È veramente... Lavorato... Eh... In tessitura... Ecco... È... A telaio... È morbidissimo... È al peso di fare qualsiasi cosa... Giacche, pantaloni... Spolverini... Sopra... Cioè... Quello che volete... È addirittura anche da uomo... Anche da uomo... Questo veramente... Io ho visto... No... Sapete perché l'ho tirato fuori... Perché... Ho visto una giacca da uomo... Alla Marinara... No... Sapete... No... Corta... Questi bei bottoni blu... No... Bellissima... E mi ricordavo di averne... Lo... Stesso tessuto... E questa mattina... L'ho proposto... Ma no... A 25 euro... A 4 euro... E 90... Perché questo è un tessuto da... Minimo 25 euro... Ma... Bene... Ma guardate... Anche da uomo... E' elegantissimo... Una bella giacca al Marinara... Da uomo... E' elegantissimo... Veramente... Da... Può andare anche a cerimonio... Ufficio... Veramente... Fashion... Come si dice... La proposta numero... 1305... Ok... Un attimo... Un quadro bene... Sì... Ecco... Oggi propongo cose... Che sono anche difficili... Un po' da spiegare... Sulla web... Sulla televisione... Perché sono... Intanto... Sono tessuti... Non so se si vede... In trasparenza... Aspetta... Sono tessuti... Asaccar... Operati... Sono... Ricamati... Operati... Ecco... Sono operati... E... 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 Molto... E... E... Cerimonia... La cerimonia... Questa qua... Anche... E... Praticissima... Particolare... E... E... Con questo... Anche... Vedo... Non vedo... Insomma... Questo... Ma... Freschissima... Freschissima... Questi inserti... A... 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 Start... O... A... 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 ma è un metro dai, a 4,90 m, di solito in negozio facciamo 30 cm, però con prezzi… guarda che c'è chi che ci vuole imitare, che fa però il quantitativo minimo di acquisto, cioè se non comprate 3 m, non bisognava niente… no, 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 ma vabbè, oggi vi propongo una cosa che solo oggi, dopo mai più, la proposta è 1306, solo per questa settimana, ah, bravo, questi prezzi li faccio per una settimana, fino a sabato prossimo, perché ripeto sono sotto, sotto, sotto il costo, questo è un grande maison, questo è bellissimo, guardate che intanto ha un bianco ottico, non è naturale, no, è un bel bianco questo qua, è un bel bianco e per fare qualsiasi cosa, giacchi, pantaloni, donne, camicioni, puro lino, cioè puro lino, lavorazione italiana, favoloso, favoloso, veramente l'ho acquistato su una grande maison questa qua, con tutti i suoi bei nudini, tutto quanto, puro lino, va bene? Ok? Lo faccio incontrare ancora perché è proprio prezioso, non lo so di tutti altri ragazzi… No, 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 ha tutti i prezzi dei prezzi di tutti i nudini, ok? Sempre 4 euro, io penso, l'ultima volta ho questo prezzo qua, è solo perché stamattina… No, avevo già una programmazione, ho la proposta 1307, guardate, questo, questo, guardate, questo pizzo, diciamo, no, ecco lo chiamo, sì, pizzo retato, intanto non è, guardate, è morbidissimo, cioè non è, dai, il cinese, scusate, con tutto rispetto, no, però guardate che… No, no, sono un po' duri, sono… No, erano più poliestere, erano tantissimo, poliestere, mentre questi qua… No, sono più poliestere europei, ok? Questo tessuto va bene per fare gonne, giacchine, stupendo, una giacchina qua, proprio anche tutto a base, metto sull'abbassamento della giacchina e anche delle maniche e anche copricostumi, copricostumi, bravo, io ho visto tantissime ragazze, sia ragazze dentro, che hanno usato questo come un preziosimento… Potete anche, la sera che hai in località, cioè in località di mare o di lago, anche per andare a bere lo spritz alla sera… Un secondo… Allora, andiamo avanti… Guardate che… Altra chicca che credo che mai più ha a questi prezzi… 1308, questo lino è viscosa, con questa riga, con questa riga, diciamo, non è gessata, ma è una bella riga, insomma, e col filo, non dico l'ures, ma proprio con filo rasato, a contrasto che lo fa… E' elegantissimo, guardiamo se si vede così… E' stupendo… Ma qualsiasi cosa… Qualsiasi cosa… Ripeto, anche quei… Anche i pantaloni da uomo… larghi, diciamo, anche con l'elastico, senza cinturone… Stupendi, va… Si vede? Ma vedete la morbidezza? Eh? Cioè, qui non c'è trucco, non c'è inganno, veramente… E' bellissimo… Aiaia… Aspetta, aspetta… Poi… Ci chiedono… Abbiamo credito che ci chiedono del jersey, delle maglie… Guardate oggi che maglie vi propongo… Articolo… Articolo… Scusami, vi prendo, vi faccio vedere questo… Sì… 1.308… Questo è l'articolo 1.309… Qui non l'ho 4, 5, 6 metri solo… Ha un tessuto veramente bello, importante anche di qualità di filato questo qua… Naturalmente, sapete anche… Chi è capace anche a lavorare a maglia… Sapete come fare… Mario, su un pezzettino… Come si dice… Lo fate giù… Lo fate giù… E poi fate, casomai, le rifiniture… I pulsini… Salta fuori… Bellissimo… Oppure mettete uno sbigliettino, no? Va bene? Quattro euro e novanta… Questa è la proposta… 1.309… Poi… 1.3010… Questa è una… Questa è una cosa particolare… È un… Pisso… 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 ma se una base di jersey… Su una base di jersey… Uso… Uso felpa… Scusami… Uso felpa… Uso… felpa estiva, va bene? E la proposta numero 1310, sempre 4,90 euro, bianco naturale, questo è particolare, è la proposta 1311, no no no, ho un difettino, lo faccio vedere, lo sono tessuti da, credevo, questo è setra e viscosa, cos'ha questa setra? Che ha delle macchie laterali, no no no, vicino al cimoso, di qua e di qua, si vede, no no no. Quindi lo sappiamo che c'è una testa utile di un metro? Abbondante anche, sì, un metro di 10, anche dal mio metro. Comunque la Sabrina vi dice tutto? No, però vi posso assicurare che è una cosa incredibile, incredibile, cioè questo di qualità, guardate anche, guardate, a tutti, sembra, vi posso dire, potete dire che avete un capo in setra pura se anche non è in purissima, ecco la viscosa, guardate però, ha la freschezza, la morbidezza, la vestibilità, guardate, setra viscosa, setra viscosa, ha delle macchette ai lati delle decimose, ve le faccio vedere, tira, apri, 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 ma ogni tanto, anche, guarda, adesso non c'è più, adesso al limite, comunque la Sabrina vi dice tutto, però a 4,90 non comprate neanche la fodra, avete un capo che costa migliaia di euro qua. Ecco, posso dire una cosa, la bravura della Sabrina, che a ciascun cliente ti scusa sempre quel dettaglio da ciascun cliente. Sì, gli fa proprio un servizio personalizzato, a volte, cioè, io dico anche troppo, però, però, no, dai, è brava la Sabrina, non è mai troppo, però, è proprio, precisa, proprio, mamma mia. Adesso farò una domanda, adesso, per carità, non voglio portare sfortuna, non voglio tirarmele, però, quante lamentelle abbiamo avuto? No. Ti posso dire questa cifra qua, zero? Sì. Zero? No. Anche perché, dopo, apprendo, tutte, ecco, a parte questa, che l'ho acquistata apposta, perché, se no, non l'acquistavo, costava un bote, questa qua costava. Ecco qua, 1311, questo costava una follia, questo era veramente l'ho acquistato su una gara, mezzo, ma, al capito, a migliaia di euro, questi qua. E, cosa sto dicendo? Che, no, la Sabrina vi seguirà veramente, vi dice tutto, vi dice, quindi, quando aprirete i pacchi a casa, non avete nessuna sorpresa. altro tessuto jacquard, lavorato, questo è elino viscosa, elino viscosa, guardate che lavorazione particolare ha, ce l'hai, eh, questa lavorazione jacquard in particolare, e sempre questo bianco naturale, eh, va bene, ok, questa è la proposta, mille... c'è un po' di sedere, perché ho male, mi sta facendo dolore la gamba, 1312. c'è un po' di sedere, ti hai detto, ah, facciamo dieci minuti, ti facciamo già mezz'ora. Poi, la proposta, mille, trecento e tredici, ecco, guardate che... non vi dico di chi è, perché è una grande misura anche questa, però guardate che paillette a disco trasparente, eh. particolare, con questo, questo, eh... allora, la base che è, sta, 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 sto... Sì, deve essere in viscosa, questo scifone in viscosa, deve essere, è facilissimo da cucire, dobbiamo cucire, guardate, però questa, veramente, è l'arte, è il genio italiano, eh. vedete che no così c'è coesione particolare questa è veramente alta moda 1313 1313 poi questo tool con ecco la proposta 1314 rubo una cosa a mia moglie perché l'ho visto stamattina questo è uno dei capi che vende Daniela ecco potete fare cose così è stupenda no con questo diamantino come chiamate questo svaroschino potete fare e posso dire e anche di qualità bellissima potete fare sicuramente o anche una donna no tutta a mezza ruota tutto intero ho visto che vediamo il colore reale per favore di me si 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 aspetta se metto male mia moglie mi cava la prima pelle mi cava che già la gamba non si è messa eccolo qua guardate elegantissimo va bene dai chiudiamo dai dai perché non vedo l'ora di alzare la gamba di stare la gamba la proposta 1315 questo è un puro cotone un piquet di puro cotone guardate con che fantasie bellissimo piquet di puro cotone inquadra veramente si vede la lavorazione si vede ok e anche la lavorazione del piquet è più difficile da fare va bene sempre 4 euro e 90 o altra cosa folle è la proposta 1316 aspetta che lo giriamo 1316 questo si questo pizzo diciamo questo pizzo che va bene per me per fare un gondellone top prendi il sole prendi il sole qualsiasi cosa va bene guardate che abbassamento ecco si poi voi ve lo togliate sul doppio abbassamento guarda inquadra doppio 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 abbassamento va bene sempre 4 euro e 90 per questa settimana chiudiamo con la proposta 1317 1317 una cosa molto particolare perché penso che sia anche edificio da trovare sui negozi di tessuti questo lino con lavorazione jeans lino lino con lavorazione jeans però vorrei che voi vedeste vedete cioè vedete vedete che morbidezza per fare qualsiasi capo questa è un'opera d'arte anche questo morbidissimo un lino con lavorazione jeans ma guardate anche che eleganza che ha qualsiasi capo la mia stampella scusa mi è caduto ok grazie no no grazie oh finalmente allora per una settimana i 17 prodotti 18 che abbiamo proposto 18 a 4 euro 90 solo per questa settimana tessuti che costavano fino a 30 35 euro va bene spediamo in tutta Italia a partire da quanto i soldi 8,90 ecco sì perché il cameraman è il regista che fa spedizioni basta io chiudo perché sono cotto sì ti vedo che sei cotto vi voglio bene Santa Domenica che il Signore vi benedica ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie